Termina 1-2 tra Bagica Lupo Vastomarina e Delfino Curi Pescara nel match valido per la trentesima giornata del campionato di eccellenza. Ai locali non basta il gol di Letto che aveva sbloccato la partita in chiusura di primo tempo. I biancazzurri scendono in campo con un classico 4-4-2 tra i pali confermato Iammarino sulle corsie si muovono la riviera e Santone in avanti il tandem Letto Fieroni modulo speculare per gli ospiti con Gobbo e Masso a supporto di Falco e Pastorini. Il primo squillo dei padroni di casa arriva dopo 4 minuti di gioco Fieroni riceve in aria spalle alla porta si gira e calcia il suo tentativo termina di poco alto sopra la traversa. La relazione del Delfino Curi arriva a 10 minuti più tardi punizione dalla lunghissima distanza di Tamboriello il suo destro è forte ed angolato ma è attento Iammarino che si distende alla sua sinistra e respinge con i pugni. Al trentatresimo Vastomarina pericoloso con Santone che vince un contrasto sulla tre quarti ed imbuca per Letto il centravanti biancazzurro solo davanti a calore spreca tutto calciando debolmente. Quattro minuti più tardi Falco si mette in proprio e semina il panico sulla sinistra rientra sul destro e calcia a giro ma la sfera si stampa sul palo sulla palla vagante Gobbo prova a rimettere al centro ma la retroguardia avvastese riesce a liberare con un po' di affanno sul ribaltamento di fronte. Fironi si invola verso la porta avversaria entra in aria finta contro finta e destro ad incrociare la sua conclusione e termina al lato di un soffio. Al quarantunesimo il Vastomarina passa in vantaggio Santone entra in aria dalla sinistra e crossa centro aria torre di Fironi per Letto che di prima intenzione calcia forte sotto la traversa nulla da fare per calore. Passano appena due minuti e i locali sulle ali dell'entusiasmo sfiorano il raddoppio Letto parte in contropiede serve la Rivera che entra in aria e calcia in porta il suo destro colpisce solo l'esterno della rete. In avvio di ripresa arriva il pareggio ospite al sesto minuto rimpallo in aria che favorisce Marzucco palla subito a rimorche da due passi deve solamente spingere la sfera in porta. Al ventiduesimo dopo una lunga fase di impasse il Delfino Curi trova il gol del sorpasso Massa recupera palla sulla tre quarti di sinistra punta il difensore entra in aria e fulmina Iammarino calciando forte sul primo palo. 34 minuti sul cronometro Massa incontenibile sulla destra va in velocità via al diretto avversario e serve al centro la corrente Falco che da posizione invitante fallisce un rigore in movimento calciando clamorosamente a lato. A 5 dal novantesimo si fa vedere Fieroni che ci prova da posizione impossibile il suo destro a giro si spegne sul fondo solo un brivido per calore. Nel finale arrembaggio bianca azzurro alla ricerca del 2 a 2 ma il risultato non cambia vince il Delfino Curi Pescara 2 a 1. Abbiamo delle difficoltà oggettive nel senso che come dici tu magari la panchina è corta abbiamo tanti ragazzi che seppur bravi comunque si confrontano con un campionato di eccellenza in una situazione sicuramente per noi non facile e quindi posso dire entrambe le cose sicuramente c'è un calo fisico ma anche a livello psicologico è chiaro che in questo momento magari prendendo gol vai in difficoltà non sempre hai quella forza psicologica di reagire quindi un po' entrambe le cose. Sicuramente fin quando ci sarà la possibilità di salvarci noi daremo tutto lo dobbiamo alla nostra società che è sempre presente e siamo molto dispiaciuti prima di tutto per loro ma anche lo dobbiamo a noi stessi per i sacrifici che facciamo in settimana per i sacrifici che insomma si fanno e quindi ce la metteremo tutta sappiamo di avere difficoltà oggettive ma sicuramente non tireremo in barca. E' vero sì tutto è vero tutto Basta Marina è grande squadra siamo arrivati già da tanto rispetto anche la loro posizione e la loro situazione di classifica loro hanno messo in gamba il 2004 2005 hanno messo in gamba di tutto pur di cercare di fare qualcosa. purtroppo noi dopo siamo venuti fuori perché è una squadra non ve lo devo dire io otto partite di file il pareggio con l'Aquila una sconfitta che non meritevamo tutto bello io sono qui a parlare dopo un anno e mezzo due anni che non parlo voglio sto qui per ringraziare Bonati il nostro mister ma diciamo il mio socio la società il delfine 60 per cento quintino 40 per cento Bonati per tutto quello che lui fa per questa società io otto anni fa mi ero ritirato è arrivato lui ma è un anno due anni adesso siamo all'ottavo lui dice no ma non lo so perciò lo voglio ringraziare immensamente mi dispiace che oggi non è qui con noi